Salve a tutti, sono Riccardo Gori del Terzo LS di Cubio del Polo Mazzatinti e quest'oggi andremo ad analizzare l'opera Cascata di Esker realizzata nel 1961 dall'appunto lo stesso artista olandese Mauriz Cornelis Esker è considerata come un oggetto impossibile e mostra quella che può essere definita come una macchina motoperpetua la quale non ha né inizio né fine come spesso accade nei suoi lavori anche in questo caso l'artista olandese sottopone l'osservatore a dei veri e propri paradossi visivi e questi sottomettono totalmente le leggi che regolano la prospettiva perché il percorso d'acqua che alimenta la cascata ha una struttura basata su due triangoli di Penrose il quale è un oggetto anch'esso impossibile realizzato ed idealizzato da Oscar Rutherford nel 1934 il corso scorre su un piano in salita e allo stesso tempo però il canale sembra avere la sua origine nella cascata che cade dall'alto questa mette in funzione il mulino il quale a sua volta sollecita il flusso del ruscello artificiale che gira prima a sinistra poi a destra e infine nuovamente a sinistra e quindi torna al punto di partenza il condotto oltre questo sembra essere sostenuto alle stesse colonne che reggono la seconda curva e il punto adiacente al mulino però sullo sfondo possiamo notare un paesaggio formato da terreni agricoli terrazzati dato che in basso a sinistra è possibile notare un giardino con piante simili a quelle marine possiamo inoltre concettualizzare la cascata come un sistema chiuso lo stesso Esker specificherà che è necessario aggiungere periodicamente dell'acqua a questo macchinario per compensare l'evaporazione di questa è un meccanismo che viola le leggi di conservazione dell'energia poiché l'acqua torna alla ruota del mulino in un movimento che può essere definito perpetuo il triangolo di Perros di cui abbiamo parlato prima è stato impiegato anche in un altro lavoro di Esker intitolato salita e discesa è stato stampato per la prima volta nel 1960 un anno prima rispetto alla cascata nel quale viene raffigurato un edificio con in cima una scala infinita percorsa a due piedi monaci uno che sale e uno che scende infine possiamo scorgere due figure isolate una sulla scala destra e una affacciata al balcone i frati mostrano un rituale incomprensibile a differenza dei personaggi che si sono allontanati grazie a tutti grazie a tutti